Chiuso in casa Altra sezione con l'uccello e dobbiamo scappare? Mi sa di si eh Possiamo tenerlo? No La prego No La prego No Possiamo tenerlo? No Ma dobbiamo proteggere Kevin da quei cani No No signore Dobbiamo portare la mia casa alle cascate paradiso Un esploratore è amico di tutti Piante, pesci, uccelli belli e brutti Un esploratore deve stare zitto Sì invece Ma dai Non è forte questo ragazzino Ellie Ah ok così Non c'è niente da fare qua Allora in teoria non posso usare Neanche tipo l'apparecchio acustico Queste cose qua Non mi sembra ci sia nulla da fare Resciamola tutta forza Forza ragazzino Non mi sembra ci sia nulla da fare in questa zona Ottimo No 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 Ok Io stavo bagnoppando per andare più veloce In realtà qua bisogna fare molta attenzione Ma in teoria Poteva benissimo salvarmi E Russell Cioè nel senso Non è che se cado io cade lui Non è che abbiamo una corda unica Siamo degli alpinisti Forza Russell Ale Oh oh Premi Ma scusami Piuttosto Ma scusa Qual è la differenza tra un salto e un grande salto Me lo dice il gioco Aeeeeee Eccoci qua E' solo questione Fai attenzione Quando fai i salti Aaaaaa Pfff Sghiantati contro la roccia A proposito di questo urletto Aaaaaa Mi ha fatto ricordare Nicocado Avocado Non vorrei Dire niente di assurdo Ma stanotte ho fatto un sogno con Nicocado Che era tipo il boss di un Di un qualche videogioco Ed è stato assurdo Dio mio Ma poi proprio da zero Non è che ho visto un suo video di recente o altro Ne ho visti alcuni un po' così a caso Tempo fa Ma Proprio da Ehi Russell Proprio a caso totalmente Mi sono immaginato Tra l'altro erano due Cioè era Si era tipo Defuso in due Nicocado Avocado E' stato assurdo E' stato assurdo Dio mio Sono quei sogni Che però fai Ti ricordi vagamente Il Il sogno Ma non ti ricordi effettivamente I dettagli E' Incredibile a volte Ma poi proprio da zero Cioè senza nessun Apparente motivo L'ho sognato Neanche che dici No E dai Russell Dai va No ok Da qua per fortuna 3 2 1 vai Stavolta è stata colpa sua E lui non era pronto Io ho saltato E via Le lande desolate Del Kfnir Queste Ci arriviamo Almeno Ecco qua È stato divertente Signor Freddy Giocare In allegria Ehi Ha visto quanta nebbia Sì Sarà meglio dare un'occhiata in giro Prima di passarci in mezzo Con la casa Leghiamola per bene E diamo un'occhiata laggiù Mi sa che questa zona Otteniamo Vediamo Allora Per poco Sono state le due mie cadute Però Questo era Facilissimo Allora